Dopo la presentazione della suocera di 93 anni, Elisabetta Canalis ci presenta la nuora filippina. Ieri vi ho presentato la mia suocera, oggi vi presento la mia nuora sister-in-law, eccola qui, Lynn. Lynn, la mia preferita? Pinot. 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 Ciccino. 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 You've got to try this. You're going to try this. Just one. You're going to like it. It's sweet. It's like a first meal. And it's very healthy. Ok? Elisabetta Canalis ci fa sapere che la cucina filippina mi piace molto. Un saluto. P времete. Welcome. 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 Welcome to the 13. I am a staying a living. I am a staying a living. We'll be back. Welcome everything. Grazie a tutti